Theresa May si dimette ufficialmente da leader del partito conservatore, ma rimarrà in carica fino a quando non verrà eletto il suo successore. La premier britannica, quando ha annunciato le dimissioni, si è detta profondamente dispiaciuta per il fatto di non essere stata in grado di consegnare ai britannici la Brexit, che rimane un punto cruciale anche nel dopo May. I candidati alla leadership possono presentare le candidature il 10 giugno dalle 10 fino alle 17 locali. 11 parlamentari conservatori si contendono la guida del partito e quindi la poltrona di primo ministro. Il vincitore dovrebbe essere annunciato nella settimana del 22 luglio. I candidati necessitano di 8 parlamentari per sostenerli. I deputati voteranno in una serie di sessioni segrete, poi gli ultimi due rimasti saranno sottoposti al voto del partito conservatore dal 22 giugno. Il vincitore dovrebbe essere annunciato circa un mese dopo. Tra gli sfidanti ci sono tra gli altri Boris Johnson, che vuole portare a tutti i costi il Regno Unito fuori dall'Unione Europea, con o senza un accordo. Michael Gove, ministro dell'Ambiente, sconfitto alle ultime elezioni per la leadership dei tori e con posizioni più accomodanti. Jeremy Hunt, ministro degli Esteri, contrario a un'uscita dall'Unione Europea senza un accordo, cosa che ha definito più volte un suicidio. E Andrea Lissom, ritiratasi dal round finale per Downing Street nel 2016, dopo le critiche che si attirò per aver detto che essere madre la avvantaggiava su Theresa May, fervente fautrice della Brexit.